Fino a poco fa, è andato via, è andato a fare i fornimenti. Ah, le volevo dire per lo stalliere ha detto che, mi è stato sempre riferito, che a Rozzo ha perso... ha perso una persona che lavorava con lui. Sì, è stata uscita questa... Sì. Allora, facciamo una cosa. Ma lei ha intenzione di andare a Rozzo? Guarda, io ci voglio andare a vedere... Sì, sì, voglio andare a vedere...